Che cosa pensano i russi dell'Italia? Ho mandato un mio amico in missione in Russia sentiamo cosa dicono i ragazzi russi sull'Italia L'Italia degli italiani Che vediamo inizia? Abotelli è italiano Tutto a posto Dice che la capitale è Roma che gli piace tutto e soprattutto che la Juventus sia la sua squadra preferita L'Italia degli italiani Che pensate di Italia e l'italianza? Italia è il più migliore di l'Italia Io volevo andare inizia E' un po' molto bello E' un po' molto bello L'Italia è un bellissimo paese Lei vorrebbe andare lì perché questo è il più migliore del mondo E' il suo sogno di andare lì E' il posto più bello e sarebbe il suo sogno da visitare E' un po' molto bello Grazie mille Che pensate di Italia e l'italiani? Che dimentichate di Italia e l'italiani? E' un po' molto bello E' un po' molto bello E' un po' molto bello credo che in mia opinione è solo il fútbol Serie A è il migliore del fútbol credo che il mio migliore è Milan e potrei supportarlo in genere ma non potrei immaginare come potrei visitare l'Italia solo per comprare anche per comprare grazie a tutti grazie a tutti lei ha visitato questa città lei è piaciuto il carnevale e dice che è stato molto bello e ci tornerebbe volentieri un'altra volta ci sono molti eventi, molte star è stato molto bello grazie associazione delle persone molto emozionali e abbiate ai fulgati abbiate ai fulgati abbiate i fulgati abbiate ai fulgati per voi e le te belle potremmo amiamo a tutti vi amo il mondo viendo la ricetta Voi scegliete i gatti esi italiani ma praticamente dice che anche lei è stata a Roma gli è piaciuto molto, si ricorderà molto dell'Italia, vorrebbe visitare altre città scusate se non traduco 100% e praticamente dice che anche lì il cibo è perfetto grazie io ero in Italia, mi piace molto, mi piace molto, mi piace tutto l'Italia e gli italiani e soprattutto il loro mangiare Cosa le pensa lei dell'Italia e degli italiani? Noi non eravamo in Italia, ma credo che l'Italia è molto bella, è una cucina molto bella, molto bella, molto bella per vedere Praticamente dice che non c'è mai stata e gli piacerebbe andare lì perché soprattutto gli piacciono i posti che ha visto e ha sentito e soprattutto il mangiare che abbiamo una cucina molto popolare Cosa le pensa lei dell'Italia e degli italiani? Cosa pensate di Italia e degli italiani? Cosa pensate… Cosa pensate? Cosa pensate? jestem.. sono molto buoni e buoni, per mio credito. Io faccio delle belle maniere. In Italia ci sono molte gente buone, e anche gente ha buone maniere. Lei piace italiano cibo, soprattutto pasta e pizza. Lei pensa che questo paese è bellissimo, ma lei non vorrebbe andare in line.